Quadrado, la ributta dentro, Bonucci per Milik e si coordina e sfonda la porta! 3-0 Juve al 62esimo, Arkadiusz Milik partecipa anche lui alla festa bianconera, terzo gol in campionato per l'ex giocatore del Napoli. Alla morbida per Lukaku, che fa la sfonda per Martinez, che calcia di prima e trova il gol del vantaggio dell'Inter al 35esimo, rasoiata di Lautaro Martinez, Nerazzurri sopra di uno. Radovanovic, Vilena dentro, Butaim lascia lì, Dia! Dia! Che scambio della Salernitana con Boulé, Dia che colpisce nel recupero 2-1! Quadrado mette giù, poi cerca di andare sul fondo, non ci riesce, Alexandro parte la traversone, sul secondo palo Di Maria si coordina, calcia! E prova il gol del vantaggio della Juve, al 26esimo, anche il Di Maria, 1-0, subito decisivo l'argentino, che sblocca la situazione molto complicata. Juventus 1-0, Sassuolo 0, esulta lo Stadium. Iconet, Lefint, in area, Iconet! Iconet! 2-2, va fino in fondo e lo fa bellissimo! La Fiorentina riaggancia l'Inter con Iconet! Bucata per Di Marco, lascia sfilare il pallone, Di Marco col sinistro! All'angolino, perla di Federico Di Marco! Il sinistro nel cuore dell'aria, Baschirotto di testa, e poi Berardi! Domenico Berardi! Il primo gol del Sassuolo in questo campionato è un capolavoro! Tonali arriva in zona tiro, poi invece la crossa per Giroud! Olivia Giroud all'ottantanovesimo! Ci pensa lui a fare 2-1! Enorme il gol di Giroud, bellissimo! Mancini, che poi la crossa dentro, Luperto non benissimo, Di Bala raccoglie, calcia! Un fulmine, Di Bala, stop e tiro! Sinistro fantastico, Roma in vantaggio 1-0! Colombo! Controllo sinistro! Ma che meraviglia! Che gol! Lorenzo Colombo sotto l'incrocio dei pali! Perla ad autore dell'attaccante Scuola Milan! 1-1! Perla ad autore dell'attaccante Scuola Milan!